Alla faccia del covid e dei divieti, Pasquetta di fuoco in quel di Secinaro è divampato nella tarda serata di ieri un incendio in località San Gregorio sul monte Sirente sul territorio comunale di Secinaro. Il rogo, stando alle primissime informazioni, non avrebbe interessato il bosco ma uno dei terreni della zona. Sul posto per le operazioni di spegnimento che sono terminate alle 23 circa, sono intervenuti i vigili del fuoco di Sulmona e la protezione civile Sirentina. Non è stato facile per i volontari e vigili del fuoco domare le fiamme visto il buio e l'intensità del fuoco anche se il rogo è stato sin da subito sotto controllo. Le fiamme che hanno interessato un'area di circa un ettaro sono state spente in tarda serata e stando alle prime ipotesi l'incendio potrebbe avere una natura dolosa. Senza dubbio quello che salta in evidenza oltre ad aver messo a rischio il patrimonio naturalistico e il mancato rispetto delle restrizioni che prevedono appunto di non uscire di casa per limitare il contagio da Covid-19.